Da Radio Sport Contino parliamo adesso delle partite in programma per quello che riguarda i campionati di prima, seconda e terza categoria, sicuramente campionati minori, ma campionati che meritano comunque il dovuto rispetto, rispetto anche ai campionati maggiori, visto che sono ancora molto più dilettantissimi e quindi è chiaro che bisogna tenere conto anche di queste formazioni. Abbiamo la giornata numero 7 con l'Atletico Itri che dopo la scompitta di domenica scorsa torna in casa, torna a giocare contro l'Acorrette C, formazione appunto di metà classifica, di pari livelli, chiaramente anche se l'Itri adesso con queste pareglie scompitte è sceso un po' più in classifica. La Don Bosco Gaeta invece torna in casa dopo aver in allenato due risultati positivi che comunque a livello di classifica non hanno comunque avuto effetto, ma chiaramente c'è bisogno adesso di una vittoria. La don Bosco Gaeta è arrivata in casa in casa, ma chiaramente c'è bisogno di una vittoria che è stata spostata all'orario alla formazione della mattina, della ministra di Città di Gaeta, ma non è stato fatto per la don Bosco. Quindi probabilmente c'era bisogno anche qui di spostare di mezz'ora un match dalle 14.30 alle 15, ma chiaramente il comitato non ha ritenuto fare questo aggiornamento. Dottorate anche per la formazione di prima categoria, ma ci ha pensato sicuramente il tecnico della Monti che ha fatto l'inchiesta appunto di poter entrare in campo nei tempi dovuti. Quindi vedremo insomma se nelle prossime settimane sarà aggiornato anche l'orario della formazione della Don Bosco Gaeta. Nel frattempo, il quadro è Marina Calcio, Boca e Itri, Norea, Spigno, Vitto e Soleno, la Grunosa, Anticosa, Tamiano e Polisportiva, Scauri, Ponza, Proformi e Calcio, Minturno, che già torna in casa, giocare contro la Real San Vittoresi. Quindi vedremo insomma che cosa ne verrà fuori. In terza categoria, Sporting, Santa Croce, Pienitro, Antonio Paluzzi contro Bispondi, Vindex Gaeta che giocherà sicuramente sabato domani alle 14.30 contro San Lorenzo, Real Aprile, Città di Formia, ha riposato, riposerà appunto, scusate, l'amatore Casa del Porto. È tutto.